Quanto è importante per la comunità scientifica la conferenza internazionale degli studenti di fisica? Credo che l'eccezionalità del nostro evento sia nel fatto che conferenze di questa taglia che coinvolgono partecipanti da 50 paesi del mondo tipicamente sono conferenze per addetti ai lavori, per ricercatori che si trovano per parlare del proprio campo specifico. Questa invece è una conferenza organizzata da studenti per studenti, i partecipanti hanno dai 18 ai 30 anni, si trovano a momenti diversi della loro carriera universitaria, alcuni sono semplici studenti, altri stanno iniziando la ricerca e si trovano per scoprire nuovi campi della fisica, per scoprire nuovi modi di avvicinarsi e di studiare la nostra materia e andando via di qua si ritroveranno con contatti che permetteranno loro di creare eventi di socializzazione di studenti e perché no collaborazioni scientifiche. Accanto al programma accademico forniamo anche un programma di socializzazione e di scoperta del territorio piemontese e questo sicuramente rappresenta un carattere di eccezionalità rispetto alla tipica conferenza scientifica.